Buongiorno a tutti, approfondiamo oggi il tema dei lavoratori fragili, cui ci siamo già occupati nel precedente video, per analizzare una delle ipotesi previste dalla circolare dell'11 settembre scorso. In particolare, in esito alla visita del lavoratore posta in essere dal medico competente oppure in mancanza di medico competente dagli ambulatori dell'Inail, dell'Asp o dell'università, il giudizio medico legale che ne deriva può portare ad una pronuncia di inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione specifica. Specifichiamo che l'inidoneità è legata al periodo di emergenza Covid che in questo momento, secondo le disposizioni governative, avrà scadenza salvo proroghe al 31 dicembre. Come abbiamo detto, l'inidoneità del lavoratore può essere limitata soltanto anche alla specifica mansione, nel caso degli insegnanti, alla mansione dell'insegnamento. In questo caso, il docente dichiarato inidoneo alla mansione avrà due possibilità. Quella di chiedere di essere adibito ad altre mansioni oppure di essere collocato in malattie d'ufficio. Nel primo caso, la nota dell'11 settembre richiama le indicazioni e le previsioni del contratto collettivo integrativo sull'utilizzazione del personale inidoneo, il quale prevede che in questo caso si adibirà il docente a mansioni compatibili con il proprio profilo professionale e compatibili anche alle sue richieste, mansioni quali la cura della biblioteca o di supporto alla didattica o di supporto alla didattica digitale nel caso specifico, mansioni che potranno anche essere svolte in modalità di lavoro agile, quindi da casa in smart working. Nel caso di utilizzazione in altre mansioni verrà stipulato un apposito contratto di lavoro della durata di 36 ore settimanali, però il docente nel caso specifico conserverà il trattamento economico originario e conserverà la titolarità presso la sede scolastica in cui prestava servizio. L'utilizzo del docente preferibilmente viene effettuato presso la medesima sede di titolarità, però può su richiesta del docente essere effettuato anche presso altre scuole o presso gli uffici scolastici provinciali o regionali o addirittura presso il ministero. Il contratto integrativo prevede anche una possibilità di utilizzazione del docente in altre mansioni anche presso altre amministrazioni, naturalmente salvo intese. Una particolarità riguarda il caso in cui più docenti dovessero richiedere la medesima istituzione per lo svolgimento di mansioni alternative all'insegnamento. In questo caso, dovendosi effettuare ovviamente una selezione tra le domande, il contratto prevede che verranno applicati criteri di valutazione previsti dal contratto integrativo sulla mobilità. In sostanza si compilerà una graduatoria sulla base dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione utilizzate per la mobilità del personale docente. Arrivederci a tutti!